buonasera amici sono la vigna e il mio sogno diventare una fashion design allora io ho questo bracciale da diverso tempo come potete vedere un bracciale luccicante con degli strass con questo meraviglioso lucchetto e diciamo da qualche mese ho deciso di dargli un nuovo look solo che non sapevo come fare o meglio non avevo l'ispirazione giusta dato che la mia passione come avrete capito intuito è la moda qualche giorno fa ho acquistato un porta chiavi per potergli dare un nuovo look allora ho acquistato questo porta chiavi che aveva l'orsacchiotto e la perla grazie all'aiuto di queste pinzette per sopracciglia ho provveduto a smontarlo quindi ho sganciato sia la perla che l'orsacchiotto dal moschettone del porta chiavi perché perché la mia intenzione è quella di applicare questo orsacchiotto e questa perla al bracciale una volta che li avrò applicati vi mostrerò il risultato finale valutazione finale